Si parte in linea di massima tra il 12 e il 15 febbraio. Stiamo valutando e credo che faremo inizialmente per la prima corte, quindi quella del 41 per capirsi, faremo con la telefonata. Dopo la variazione regionale del calendario, anche l'ULS2 riorganizza le prossime tappe della campagna vaccinale anti-covid, precedenza agli over 80 che verranno contattati nei prossimi giorni, non più via posta ma al telefono. Faremo 4.800 chiamate telefoniche, i nostri stanno già attrezzando, nel momento in cui non troviamo l'anziano chiameremo i familiari. Le linee dei CUP sono raddoppiate e gli operatori riserveranno i pomeriggi per contattare gli anziani. Il pomeriggio l'anziano riceverà delle telefonate e verrà spiegato a lui dove deve andare, a che ora, con orario e luogo. I medici di famiglia verranno coinvolti nella campagna vaccinale, mercoledì l'incontro per definire i dettagli e contribuiranno alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, approvato per le fasce d'età dai 18 ai 55 anni e più semplice da conservare, non necessitando di super freezer come Pfizer e Moderna. Intanto calano negli ospedali trevigiani i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica e da oggi ripartono le visite ambulatoriali. Torneremo in pari con la dermatologia nel giro di 15 giorni, faccio un esempio. Per quanto riguarda la pneumologia è impossibile arrivare in pari finché abbiamo i pneumologi che sono impegnati ovviamente a seguire pazienti Covid.